RR Occhio Davi Bello Brava 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 il pezzo più difficile è quello lì secondo me lì Gira di là? Muore ancora? Il pezzo più difficile è questo! Gira di là! Mi devi dare! Perché se no non ce la fai! A zero! Non ok, non è che scopo! Perciò non lo socciono!